Salve carissimi amici tuttubi, sono Francesco, benvenuti nella soffita di camera mia, benvenuti se è la prima volta che venite a visitarla. Qui Francesco, qui Zipo Perone, e quest'oggi parliamo del Calisota, grazie ad un personaggio che non è Zipo Perone, non è Paperino, parliamo di Topi e parliamo di Dark and Blot volume 3. Terzo volume della serie di Dark and Blot nella Definitive Collection, ventunesimo volume della Definitive Collection. Già notate che c'è qualcosa di strano, perché qui è attaccata una peccetta col prezzo di 5,50 contro gli usuali 4,50. Questo perché molto probabilmente ho paura a togliere la peccetta, perché ho paura di rovinare l'albo sotto, è segnato il prezzo tradizionale delle Definitive Collection, quindi 4,50. Mentre invece, visto la grossa mole che questo volume ha, sono 230 pagine di storia fumetti, il volume doveva costare un eurino in più. Che per me non è un problema, cioè, tanta roba da leggere e anche spendere qualcosina in più non è un problema, intendiamoci assolutamente no. E' proprio il fatto di averci messo la peccetta sopra, che è veramente molto antiestesi, proprio sino, è la prima cosa che io noto guardando la copertina. Però sorvoliamo su questo dettaglio e passiamo al contenuto delle storie. Storie scritte da Casti, interamente da Casti, per i disegni di Lorenzo Pastrovicchio, che visivamente parlando è sempre una bomba. Magari se riesco qui a destra, vi metto le preview trattate dal sito di Topolino, giusto per avere un'idea, visto che queste storie sono state pubblicate a marzo del 2017, dovrei riuscire a trovarle facilmente. Così avete anche un'idea dello stile grafico della serie e di questo capitolo nello specifico. Cercherò di non fare spoiler, quindi rimango piuttosto vago sulle tre macro storie di questo volume qui. Perché dico tre macro storie? Perché questo volume, il terzo volume di Dark Emblem, per l'appunto, contiene sia il capitolo 2.1, intitolato Nuovi Poteri, che è la storia breve, Dark Emblem 2, il ritorno, conflitto smodato, che è tutto Dark Emblem 3, Nemesis. Andiamo con ordine e partiamo da Dark Emblem 2.1. Sono passati diversi anni dall'uscita di Dark Emblem 2.0, per l'appunto, almeno editorialmente parlando, e quella storia che possiamo leggere in questo volume riparte poco dopo Dark Emblem 2. Tuttavia, piuttosto che un epilogo di Dark Emblem 2, questo si prefigura come un vero e proprio prologo per gli eventi del 3. In quanto Macchianera è stato sconfitto, si è allontanato dalla città di Robopolis, si è creato una sua base segreta, e viene contattato da un essere misterioso per cose misteriose fondamentalmente, e idealizza un piano per attaccare Robopolis e avere, diciamo, un certo ritorno economico fondamentalmente. Questa è la trama di Dark Emblem 2.1, con un topolino che quindi torna a Robopolis, la città futuristica dove ci sono i robot, ci sono un sacco di robot ovunque fondamentalmente, e qui cercherà di fermare l'attacco di, per l'appunto, Macchianera del Dark Emblem e dei suoi alleati. Dico suoi alleati senza timore di fare troppi spoiler, perché sono veramente le cose che succedono nelle prime quattro pagine della storia, quindi niente paura, non faccio, cerco di essere più spoiler free possibile, pur facendovi capire di che cosa parla la storia. Che cosa c'è da dire? Questo capitolo 2.1 mi è parso molto molto equilibrato. Se tutta la buona parte della storia è molto di indagine e misteri, si deve cercare di risolvere il mistero, di come faccia Macchianera a fondamentalmente comparire spesso e volentieri in più parti della città di Robopolis, praticamente nello stesso istante, e solamente nella parte finale c'è effettivamente lo scontro con il robottone, ma è uno scontro più, meno fisico di quanto si possa pensare, tutto sommato. Il che effettivamente, considerando che Topolino fisicamente non potrebbe sconfiggere un robot, fa più che bene, fondamentalmente. È anche presente, come dicevo, la storia breve, Conflitto Smodato, che era una parodia di cosa era successo nell'episodio 2, con Topolino e Minni che vanno al cinema e si vedono il film ispirato all'efficienza di Dark and Blood 2.0. Sorrido perché la storia è proprio molto molto comica, molto cacciarona, molto alla Michael Bay, con tanto di botte da orbi, colpi di scena, difetti di trama, trama che non torna perché ci sono degli errori di montaggio, cose bruttissime che succedono, però ti va bene lo stesso perché vedi dei robottoni che combattono, insomma, cose del genere. Tant'è che ho citato Michael Bay perché è il film di Michele Baia, quindi anche qui colpo geniale da parte degli autori, molto molto divertente, molto molto carina. Però è proprio un divertimento ludico in attesa della ciccia di Dark and Blood 3. Dark and Blood 3, che devo dire, è veramente un ottimo capitolo. Se tutta la serie di Dark and Blood era cominciata con, sì, il mistero, l'indagine di Topolino che cerca di fermare Macchia Nera, ma la parte portante del primo capitolo era lo scontro più massiccio e più fisico tra Topolino, che volava su un giroscopio fondamentalmente, e un esoscheletro comandato da Macchia Nera. Quindi, capite, è proprio uno scontro massiccio, proprio Lorenzo Pastrovicchio style fondamentalmente. Molto molto gradevole, visivamente parlando. E' di quel tamarro che è bello, fondamentalmente. E Casti, non dico che sia adeguato, tra virgolette, perché comunque secondo me Casti si è divertito tantissimo a scrivere questa serie qui, però ecco, non è quella serie di Casti bella, perché magari molto introspettiva, molto no, è una serie proprio tamarra e per questo che è bella. Però scritta bene, con un senso dietro. Questo Dark and Blood 3 è decisamente la summa di quanto doveva essere questo Dark and Blood, fondamentalmente, per quanto mi riguarda. Una riflessione ancora più profonda del concetto di robot, di che cos'è un robot, con tanto di morale che ci sta dietro, legato al fatto che i robot che vediamo in questo terzo capitolo non hanno le tre leggi della robotica, ma sono robot i quali imparano perché qualcuno gli insegna qualcosa. Quindi hanno una memoria, hanno un cervello elettronico che gli permette di imparare da quello che gli succede attorno e poi di riflesso avere una propria personalità. Una cosa molto, molto interessante, molto inquietante sotto tanti punti di vista, ma fa parte di quel tipo di fantascienza che ti invita a riflettere sul significato proprio di avere qualcuno che ti insegna e di essere qualcuno proprio in base del fatto che hai imparato qualcosa dagli altri. Quindi questo concetto qui è stato proprio bello, proprio bello, bello, bello. Per quanto in una storia con dei robottoni, quindi intendiamoci che cosa può venirne fuori. La storia si articola però in varie fasi, anche piuttosto articulate, con sì, spesso degli scontri con degli esoscheleti dei robot, ma la parte fondamentale resta all'indagine il mistero. Diversi anni fa, infatti, una città chiamata Robotama viene distrutta da un'esplosione di un vulcano. Nel presente, Topolino si reca, insieme agli amici poliziotti di Robopolis, a Miraitoshi, una città nel Giappone, il cui sindaco era uno dei personaggi che c'era a Robotama ai tempi e sta in una città anche questa qui molto evoluta, molto all'avanguardia, che sta rivaleggiando con Robopolis, ma che non ha il diritto di costruire robot, non ha ancora questo permesso, quindi si sta ragionando in quest'ottica, quando ecco che la città viene attaccata da macchia nera. Topolino ovviamente interverrà, anche grazie all'aiuto di un team di quattro giovani, dotati anche loro di un loro particolare esoscheletro in grado di lanciare raggi di fuoco, di vento, di ghiaccio o di lava, che non capisco la differenza tra lava e il fuoco, però va bene così, e insieme affronteranno macchia nera, ma affronteranno anche le difficoltà di essere un team questi quattro personaggi e il confronto con Topolino, credendo Topolino da una parte un idolo, dall'altra loro si sentono superiori perché hanno determinate capacità, hanno determinato tutto quello che volete. Soprattutto il leader di questa squadra sarà proprio il rivale, proprio perché è molto simile a Topolino, sarà un vero e proprio rivale tra contro di lui, quindi anche qui una bella trama dietro. Ma che cosa vuole macchia nera? Che cosa sta facendo Mirai Toshi? Ecco, gran parte della trama si svolgerà proprio in quest'ottica, quindi cercare di capire che cosa sta realmente succedendo, ed è molto interessante. Castiri è riuscito a creare, secondo me, una storia molto equilibrata tra azione pura, anche molto tamarra sotto questo punto di vista, e l'indagine e il misteri più classico, coniugando bene anche l'aspetto futuristico e all'avanguardia, condito ovviamente dai disegni di Lorenzo Pastrovicchio, che è semplicemente perfetto per questo ruolo qua. In conclusione, quest'albo qui ha dei difetti, come dicevo c'è la peccetta qui, qua la costina, c'ha il dorso rosso anziché blu, come nei due volumi precedenti, poco male, io lo metterò comunque di fianco, però stona un pochettino, ma secondo me quella che è la grossa pecca della Definitive Collection attualmente è il fatto di presentare pochissimi contenuti extra, perché a parte 5-6 pagine come questa, che ti mostrano per l'appunto alcuni bozzetti, la sceneggiatura storyboard di Casti, ma alcune vignette in realtà, quindi neanche troppa roba, per il resto non c'è una solo editoriale, scritto un'intervista agli autori, e considerando che questo è il capitolo finale di Dark and Blot, è un pochettino un peccato, perché vuol dire che non ci sarà l'occasione di sentire dagli autori un commento, un giudizio, un qualcosa sul finale della loro serie, ed è una cosa che un pochettino mi è dispiaciuta, per il resto sono 230 pagine belle, perché sono 230 pagine belle, a 5,50 euro, che non posso non consigliarvi, perché a parte il fatto che a me Dark and Blot è sempre piaciuta fondamentalmente, e l'ho riletta anche volentieri, a distanza di pochi mesi tutto sommato, però ecco, il difetto più grosso secondo me è della Definitive Collection, che sta diventando sempre di più una semplice raccolta di serie a puntate, che comunque ha comunque un senso, però quel quid in più che avevano quegli articoli dei primi volumi era veramente qualcosa che rendevano la testata unica, è tremendamente interessante, sia per i collezionisti, che per i neofiti. Detto questo, noi ci vediamo ad una prossima video opinione del canale. Ciao!